Ciao a tutti, sono Stefano Silvestri di Eurogamer.it e alle mie spalle potete vedere lo stand di Gears of War 4 che Microsoft sta presentando anticipatamente rispetto all'inizio della fiera. Abbiamo avuto modo di provare una demo di una ventina circa di minuti di Gears of War 4. Diciamo che a livello di narrazione, di storia, il gioco si pone dopo Gears of War 3. E' stata sconfitta la minaccia delle locuste, però siamo rimasti senza emulsion e di conseguenza l'umanità è un po' precipitata indietro nel tempo. I pochi sopravvissuti sono racchiuse all'interno di città con mura altissime che servono da un lato a proteggerli dalle minacce di ciò che li circonda per preservare gli ultimi esponenti della razza umana, ma dall'altro sono anche un po' delle mura di prigioni che trattingono gli ultimi sopravvissuti all'interno di queste città dalle quali non possono uscire. Ci sarà un gruppo di persone che si ribellerà a queste cose e tra questi troveremo il figlio di Marcus Fenix, J.D. Fenix, che proverà appunto a vivere al di fuori insieme ad altre persone di un gruppo di ribelle, se vogliamo, proveranno a vivere al di fuori della loro città. Cambiano i nemici, questa volta si chiamano The Swarm, quindi lo sciame in inglese, e sono nemici con una caratterizzazione un po' particolare, a me non ho ricordato quella dell'ultimo Alien, se vogliamo, quindi umanoidi, però con una pelle molto bianca, molto liscia, con muscolatura un po' tremolante, ma molto forti, e hanno questa peculiarità che catturano gli umani e li trasformano in appunto esponenti dello sciame. Per cui all'inizio di questa demo troviamo delle specie di sacche di carne, ne distruggiamo una con la nostra motosega e vediamo uscire uno di questi droni dello Swarm e da quel momento in poi avremo una serie di combattimenti che ci proporranno tonnellate di questi nemici che continuano a uscire dalle fottute pareti, scusatemi la citazione, ma era d'obbligo, fino a quando poi il gioco non ci porterà all'interno di una chiesa dove troveremo la versione enhanced, cioè la versione evoluta di questi droni che sono più grossi, più muscolari e più cattivi, ma comunque non particolarmente difficili da abbattere. La demo poi prosegue attraverso una specie di accampamento militare dove venivano ricoverati dei feriti e poi alla fine dovremo arrivare all'ingresso di una stazione ferroviaria dove troveremo altri nemici, questa volta sono come degli animali a quattro zampe, corazzati, molto grossi e molto cattivi, che ci salteranno addosso. Devo dire che ci sono saltati addosso molte volte, sono abbastanza infidi, fortunatamente il livello di difficoltà era abbastanza basso, quindi devo dire che normalmente saremmo morti molto più spesso. Detto questo, devo dire che Gears of War 4 è un gioco nuovo per quanto riguarda i nemici, ma abbastanza vecchio e datato per quanto riguarda le meccaniche. Oggettivamente è lo stesso Gears of War che abbiamo visto ormai da dieci anni a questa parte, stesso sistema di copertura, stesse armi, stesse meccaniche, ad esempio più volte ci sono capitate le fosse dalle quali continuavano ad uscire nemici e che noi dovevamo tappare buttandoci dentro una granata. Pertanto insomma, sono un po' dubbioso per quanto riguarda questo titolo, perché chiaramente ha tutte le caratteristiche moderne di un gioco, una bella grafica, l'Xbox Play Anywhere, quindi anche in questo caso cross platform, chi compra una versione Xbox One avrà la versione PC e viceversa, su PC sarà chiaramente molto bello da vedere, anche se la versione provata era solamente quella Xbox One, poi però quando si prende mano al pad e lo si gioca, è sempre lo stesso Gears of War, anche qui sempre Team Play, sempre i compagni di squadra che dicono più o meno le stesse battutine. Insomma, Microsoft dovrà stare molto attenta a come proporrà questo gioco e alla sua fase di lancio, perché da una parte gli appassionati storici della saga si sentiranno a casa, dall'altro tutti gli altri magari avvertiranno una formula di gioco un po' datata. Questo è tutto e chiaramente restate sintonizzati sul nostro canale YouTube e sul nostro sito aerogamer.it per tutte le altre novità. Ciao ciao!